Saranno quattro appuntamenti per l'estate fanese dal 23 giugno al 30 luglio e saranno quattro appuntamenti in due luoghi speciali della nostra città, l'ex chiesa San Francesco nella quale ci troviamo e nella quale abbiamo presentato la stampa a questa iniziativa e la Rocca Malatestiana. Quattro serate, quattro concerti con programmi tutti molto belli e particolari. Si parte appunto il 23 giugno con il trio Dmitri che proporrà musica classica dei trio di Beethoven e Brahms e una fantasia costruita sui temi dei brani che andremo ad ascoltare nei concerti che seguiranno in questo festival. Si passa poi il 6 luglio alla Rocca Malatestiana con un concerto dedicato a Puccini. Siamo nel centenario della morte del grande compositore d'opera e abbiamo pensato di fare un concerto con il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Vardui, diretti dal maestro Corrado Valvo. In questa serata ci sarà un'edizione speciale del premio Tiberini che, lo annuncio io, ma l'ho appena annunciato la professoressa Giuseppe Guerra, sarà assegnato alla nostra orchestra. Si passa il 13 luglio con il concerto, con la presenza della pop star Chiara Gagliazzo, una voce davvero incredibile che interpreterà brani della musica italiana con gli arrangiamenti di Roberto Molinelli, tra cui anche i suoi successi personali. Termina il festival il 30 luglio con questo concerto dal titolo curioso Baroque, che unisce il discorso della musica barocca per cui sarà proposto il bellissimo Vivaldi e si terminerà aumentando un po' il tasso roccheggiante del programma. I protagonisti saranno i nostri due primi violini, Francesco Pellegrini e Enri Domenico Durante. Tutti i concerti avranno dei prezzi assolutamente abbordabili, 5 euro per i giovani e 10 euro per la restante parte della popolazione.